e ben trovati e con questa breve guida vediamo come consegnare un compito con la nuova versione della piattaforma didattica che è la versione di moodle 2.3 ci sono alcune piccole differenze operative rispetto alla versione precedente che era la 1.9 allora per consegnare un compito chiaramente dobbiamo trovare l'apposita funzione predisposta nella pagina del nostro corso in questo caso abbiamo questo link consegna progetto cliccando apparirà questa schermata che ci fa presente che non ci sono non sono stati ancora effettuate delle consegne e quindi nemmeno delle valutazioni e troviamo un pulsante aggiungi consegne clicchiamo su questo pulsante e a questo punto apparirà una finestra che ci permette di caricare il file o i file nel senso che noi potremmo consegnare uno o più file a seconda di come la funzione consegna è stata impostata allora per caricare i file o il file ci sono più modi il modo sicuramente più semplice è quello del drag and drop praticamente se noi apriamo in una finestra oppure l'abbiamo nel desktop il file da consegnare possiamo tranquillamente trascinarlo all'interno di questa finestra il tempo necessario per caricare il file il file comparirà altrimenti possiamo calicarlo con l'apposito pulsante aggiungi potremmo anche creare una cartella ma questo adesso non ci interessa con il pulsante aggiungi apparirà questa finestra di gestione dei file e noi e cliccheremo su file upload a questo punto scegliamo il file con la nostra finestra lo prendiamo dalla scrivania adesso il file è già presente per cui ecco sicuramente verrà aggiunto come ci appare il messaggio che ci dice che lo stesso file è già presente quindi io lo sovrascriviamo o lo rinominiamo oppure annulliamo adesso possiamo anche sovrascriverlo senza nessun problema sovrascriverlo a questo punto salviamo la modifica bene vedete questa praticamente è una schermata riepilogativa che ci fa presente che è stato consegnato un file che nel nostro caso si chiama progetto dvg che non è stato valutato ma che ancora in stato di bozza per poter consegnare definitivamente il compito dobbiamo cliccare sull'apposito pulsante consegna compito altrimenti se vogliamo modificare nel caso in cui ci sono più consegne da effettuare vogliamo aggiungere un altro file perché magari un file l'abbiamo preparato in un momento un file in un altro momento possiamo cliccare ecco sul pulsante modifica il mio compito dove ritorneremo praticamente alla schermata precedente aggiungere file e così via per consegnare appunto definitivamente il compito dobbiamo cliccare sul pulsante consegna compito questo punto ecco ci viene chiesto un ulteriore conferma continuiamo e vedete ci viene detto che il compito è stato consegnato per la valutazione ma non ancora valutato quando verrà valutato ci arriverà un apposito messaggio email e troveremo la valutazione proprio qui nel nostro sito grazie a tutti per l'attenzione andiamo ad ora vi ho l'attenzione